Buonasera, scusate questo ritardo e benvenuti al mistero Kader Abdullah. Kader è iraniano, è stato perseguitato prima dallo Shah, poi dall'Ayatollah e ha dovuto lasciare il suo paese. E come scrive in un testo che ha scritto per noi, per Babel, quando ti trovi ad emigrare, dopo un primo passaggio, puoi scegliere se hai 10.000 dollari e New York, se hai 9.000 dollari può essere Parigi, 8.000, Londra e via dicendo, se non ne hai neanche un dollaro vai in Olanda. E quindi questo è quello che Kader ha fatto. E sempre nello stesso racconto dice come nei primi tempi in Olanda, è entrato in un negozietto, aveva incontrato un iraniano e parlando con lui Kader aveva deciso che sarebbe diventato uno dei più grandi scrittori olandesi, al che il negoziante le ha chiesto, ma sai una parola di olandese? E Kader ha detto no. Eppure Kader è diventato uno dei migliori scrittori olandesi, come Usama e Yusuf che abbiamo ascoltato oggi, sono tra i migliori scrittori svizzeri di oggi. E potremmo pensare che il dramma del vissuto in qualche modo possa supplire alle incertezze stilistiche per qualcuno che scrive in una lingua adottiva, una lingua appresa da adulto, solo se però consideriamo che nella letteratura, che nella scrittura, forma e contenuto siano distinti. Mentre il mistero Kader Abdullah io credo che sia proprio in parte nella combinazione della semplicità del dettato, la calma del tono e la complessità inaudita dei temi e delle cose che tratta, che vanno da romanzi storici a una riscrittura delle millenonotte, a una traduzione e riscrittura del Corano. E quindi è come se come poli opposti, cosa e nome, si respingessero e poi in maniera misteriosa finissero per congiungersi. Con Kader ci sarebbe dovuto essere un nostro grande amico, Goffredo Fofi, che purtroppo non potrà essere con noi, però abbiamo avuto la grande fortuna di avere una giornalista che conosce molto bene Kader, Laura Pezzino, che era qui a Babel e quindi ci ha salvato, come dire, in corner. E dovrebbero esserci nel pubblico anche la fondatrice della casa editrice di Kader in Italia, Iperborea, e la sua traduttrice italiana. E quindi spero che siano qua e spero che... Emilia Lodigiani e Elisabetta, spero che avrete qualche domanda per Kader anche non dal palco e che il nostro pubblico possa chiedere qualcosa anche a voi. Io mi fermo qua e invito sul palco Kader Abdullah. Grazie. 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 Buonasera. Buonasera. È fantastico vedere tutti qui e a quest'ora. È fantastico vedere tutti qui e a quest'ora. È sembra una fiction scienza di un film. Mi sembra praticamente una film di fantascienza. Credo di aver tenuto centinaia, se non migliaia, forse, di conversazioni come questa. Sicuramente questa però per me è la più importante e anche la più bella. Perché voi siete venuti qui e mi avete dato la possibilità di vedere i miei lettori in un momento così difficile. E quindi non si tratta di Qader Abdullah. Ma si tratta della vita. Noi vogliamo celebrare la vita. Noi vogliamo celebrare la vita. Quindi grazie per essere qui. Grazie agli organizzatori di questo evento. Perché il lavoro che hanno fatto è stato veramente un lavoro difficile. Io li ho visti, li ho incontrati, erano molto nervosi, molto tesi, ma hanno fatto davvero il meglio. E questo bellissimo evento è il risultato dell'attività che loro hanno condotto per realizzarlo. Quindi li ringrazio. Quindi li ringrazio. Io ringrazio il mio pubblicatore italiano Emilia. Emilia, editore per la lingua italiana e colei che desidero ringraziare. E un grazie, grazie davvero di cuore alla mia bravissima traduttrice Elisabetta. Elisabetta. Grande. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Cadera ci ha già accolti in questo teatro. Ha anche dato, come dire, un mood a questo intervento. Il mood di vita. E questa è una cosa molto bella da parte sua. Come ha detto Vannis Antony prima, cadè? Vabbè, ho iniziato subito bene. Spero di finire meglio, scusatemi. Vannis Bianconi, spero che mi perdonerà. Scusate, sono un po' nervosa. Dunque, come Vanni ha detto prima, vabbè, Cadera Abdullah è nato in Iran. Nel 1985 è dovuto fuggire in quanto oppositore al regime degli Ayatollah. Nel 1988 è arrivato in Olanda, ad Elft, dove tuttora vive, e scrive appunto in olandese. Questo è chiaramente molto importante in questo particolare contesto di questo festival. I suoi libri sono, appunto, pubblicati da Iperborea, come appunto il suo ultimo romanzo, che è Il sentiero delle babucce gialle, che come ogni suo altro libro è una lettera d'amore al suo paese, che non vede da oltre 35 anni, perché appunto Cadera non ha più potuto tornare al suo paese. Alla storia del suo paese e alla sua famiglia, per la quale prova un grandissimo orgoglio, appunto per appartenervi. Mescolando quelle che sono elementi favolistici a elementi autobiografici, usando una lingua che è esatta e poetica, perché citando una frase proprio da questo ultimo suo romanzo, I persiani si ubriacano di poesia come i francesi di vino, racconta la propria storia, però attraverso un personaggio che è Sultan, che è un bambino che cresce, nasce e cresce in questa piccola cittadina, Arac, che è ai piedi di una catena montuosa dell'Iran, qui vede la vita attraverso un cannocchiale e poi una cinepresa, perché appunto diventerà un importantissimo regista nel suo paese. In questa casa castello, ne parleremo tra poco, perché anche questa ha un'ambientazione molto favolistica e interessante, e in quanto regista viene conteso da quelle che sono le varie fazioni che prendono il potere nel suo paese e diventerà protagonista e testimone di eventi molto importanti. Ci sarà anche un incontro rocambolesco, non posso dire di più per non svilare troppo, di questo libro con la moglie dello Shah Faradiba, e ci sarà addirittura da parte di Sultan un incontro con l'Ayatollah Khomeini, che proprio per la sua straordinaria bravura come regista, lo sceglie per girare un documentario sulla propria vita privata. Ecco, questo diciamo che a grandi linee è un po' la trama del suo ultimo romanzo, però come prima cosa a Kader vorrei fare una domanda che è un po' personale. Iniziamo dal nome, dal suo nome, che in realtà il suo vero nome non è quello che compare sui suoi libri, ma è un altro, è Hossein Farani. Io vorrei, sapendo che c'è una storia dietro a questo nome, Kader Abdullah, che ha assunto, gli chiederei proprio se ce la può raccontare. Ok, certo. D'accordo. My passport name sounds as Seyyed Hussain Sajadi Khaymahami Farahani. Ecco, sul mio passaporto c'è scritto il mio nome, che è Hossein Sajadi Khaymahami Farahani. Ma, ogni parte del mio nome sul passaporto ha un significato. in la cultura persiana, in la cultura persiana. Seyyed è un titolo, ed è un titolo anche importante. In particolare, in relazione alla religione persiana. Se qualcuno si chiama Seyyed, allora questo vuol dire che è il figlio del figlio del figlio del figlio del figlio del profeta Maometto. E questo è il figlio del figlio del figlio del figlio del figlio del figlio. Quindi io sono importante, sono una personalità. La seconda parte invece è Hussain. Hussain means little or small Hassan. Hassan. Ah, e Hussain vuol dire Hassan più piccolo, da piccolo. Hassan means handsome, handsome boy. Che poi equivale a dire bel ragazzo. Hussain vuol dire ragazzo, piccolo ragazzo, bello. Evidentemente mia madre mi vedeva come un ragazzino piccolo e bello. Sajjadi invece è un nome religioso. Sajjadi è un uomo che è sempre dedito alla preghiera, prega Dio. Io non ho fatto questo, ma questo è Sajjadi. Ecco, io questo non l'ho fatto, comunque questo è Sajjadi. Sajjadi vuol dire che questo è il figlio del figlio del figlio del figlio di una persona importante che è il primo ministro. Però cosa importante è quello non sono io. Quello è il nome che sta sul passaporto. Io sono Kader Abdullah. E questo in memoria di due miei cari amici, compagni. è Kader, studente di medicina, che è stato giustiziato. E Abdullah è un studente kurdo, avvocato, che anche egli è stato giustiziato. I loro due nomi li ho accostati l'uno all'altro. Con questo nome ho iniziato a scrivere in olandese. E questo sono io, questo è Kader Abdullah. E per me è un piacere conoscervi e incontrarvi. Ho fatto un calcolo, spero di non aver sbagliato troppo, che tra Delft, nei Paesi Bassi dove vive adesso Kader, e a Raq, nell'Iran centrale dove è nato, ci sono circa 5.300 chilometri. Quando è arrivato, però, dovrebbero essere più o meno quei chilometri lì. Ed è passato, Kader, da un paesaggio che viene anche descritto all'inizio di questo romanzo, di bellissime montagne, a, diciamo, il paesaggio più piatto che possiamo vedere, appunto, sulla terra. Volevo chiedere a Kader se si ricorda l'impatto che questo paesaggio ha avuto su di lui e quanto questo paesaggio ha influito sulla sua scrittura e se il paesaggio ha un impatto in generale sulla scrittura. Sì, lo so. E lo so che è una domanda molto importante. Io vengo da una regione montuosa. Proprio vero, l'hai detto, io vengo da una regione montuosa. Sì, in un paese con monti, la vita ha sempre qualcosa di segreto. Ed è così che in un paese montuoso la vita ti riserva sempre tanti segreti. E in letteratura anche lì i segreti sono tantissimi. E in letteratura, la letteratura perbade tutte le cose e perbade anche l'amore. E c'è anche nel sesso, fra l'altro. Per esempio, nella letteratura persiana, sei innamorato di una giovane donna. Lei non è semplicemente una donna giovane e bella, ma è anche un custode di segreti. Non è facile avvicinarsi toccandola e non è facile chiederle un bacio. Devi fare tantissime cose per riuscire ad andare oltre le sue montagne. Devi coglierla con la poesia. Devi raccontarle del Corano. E devi fare molte cose per riuscire a vedere un centimetro del suo corpo. E in questo modo, crea una letteratura persiana, una letteratura segreta. Solo così puoi davvero creare letteratura orientale, letteratura persiana. E poi arrivi e sei proiettato nella società olandese. E incontri una giovane donna. E le dici, ti amo. E lei ti risponde, anch'io ti amo. E lei ti dice, facciamolo allora. E anche con questo si crea un'altra parte di letteratura. Però sono letterature totalmente diverse. E questo è il povero Abdullah. E questo è il povero Abdullah. E deve poi trovare il modo di riconciliare questi due bellissimi aspetti. Non è che io possa qui dire quale dei due sia il migliore. Perché entrambi hanno i loro segreti. E anche la loro bellezza. E io amo entrambi. Bene. Se adesso Caderci può parlare della sua decisione di fare letteratura, di mettersi a scrivere letteratura in olandese. Cosa tra l'altro per la quale è stato anche paragonato a Nabokov e Conrad. E poi sarei curiosa di sapere appunto qual è il suo rapporto con la sua lingua natale invece con la sua lingua madre. E infine di sapere se sogna in olandese o in persiano. Yeah, there are four questions at the same time, yeah. Qui siamo a quattro domande in una. Ok, ok, I will do it. I know that you are nervous, but ok. Ce la possiamo fare, so che sei nervosa, però. First question. Many, many journalists or writers, they compare me with Nabokov or somewhere else, but it's not possible. My problem is completely different. My writing in Dutch, my changing writing language is completely different than the way that they have done it, you know. Sostanzialmente per me il cambiare lingua è motivato da ragioni totalmente diverse da quelle. I had to do that. I must do this, I must choose for this way, you know. Io ho dovuto scegliere di scrivere in questo modo. And it is because of my family. E questo ha a che fare con la mia famiglia. And because of my father. E in particolare con mio padre. My father was deaf and mute. Padre sordo-muto. And the family, my father, my mother, my grandfather, everybody, everybody wanted to have a son. A son who was able to hear and to talk for my father, you know. E a partire da mio nonno, poi fino a mio padre e mia madre, tutti volevano un figlio che potesse sentire e parlare. I have never been a child. Quindi io un bambino non lo sono mai stato. They wanted me always to be a man, demon. Perché fin dall'inizio hanno sempre voluto che io fossi un uomo, l'uomo. They said always to me, you can make it, you have to make it, you know. Mi hanno sempre detto ce la puoi fare, devi farcela. I was not able to fail, to fall down, to lose, you know. Quindi per me fallire non riuscire non era un'opzione plausibile. When I was in my own language I wanted to be a beloved famous Persian writer, you know. Quando pensavo di scrivere nella mia lingua pensavo che avrei voluto essere uno scrittore amato, uno scrittore famoso. And when I escaped and I reached the Netherlands, I was nobody. E invece fuggendo e arrivando nei Paesi Bassi, lì non ero nessuno. I was an alphabeta, I was not able even to read in Dutch, you know. Quindi praticamente un'analfabeta, non ero neanche capace di leggere nella lingua del Paese. And I was about 34 years old, you know. E avevo 34 anni. I was not allowed to be nobody. Però non mi era consentito essere nessuno, essere sconosciuto. They believed on me, to me. I had to make it, their dreams, I had to make it, you know. Dovevo farcela e dovevo così portare a compimento il loro sogno. And I was lost. E qui mi sono sentito perso. The only way, the only way to be able to continue the life was words, words. And the only words was the Dutch language. E l'unico modo di poter continuare a vivere era attraverso le parole. E a questo punto le parole sono le parole olandesi, in olandese. And I want to say you one secret. E qui ti svelo un segreto. When I started writing in Dutch, I was not able to write in Dutch. I was absolutely not able to write in Dutch. But I had to make it, to make it. And I believe in life. E credo nella vita. And I bend my head for life. E alla vita minchino. And I bend my head for this evening. E anche minchino a questa serata. I sogni? About the dreams. Ok, it is the corona times and I don't want to make it a heavy interview, you know. I tried to say something, ok. Dreams, ok. If, now I am day and night, every day, every night I am busy with the Dutch language, you know. Dreams. If I dream about my beautiful Persian lady of that time, I dream in Persian, you know. But if I dream my beautiful Dutch lady, neighbor, I dream in Dutch. It's time of corona and so I don't want to take this interview to assume heavy tones. But, day and night, I am a bit of 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 a bit. Now, a bit of enthusiasm. If I dream during my time and so of a bit of a bit, I dream in Persian, of course. If I dream a lady, of course, from a bit of a bit of a bit. This person... No, I dream of a bit of a bit extreme. If I dream of a Mandarin, I dream of aстраvitinander or foreign lareslverbans. If I dream of a classical wizard after, I dream of an German and Indian and German. Yes. Ch UK, really. Yes. It's simple. It's simple. Yeah. In English. Dunque, la figura di Sultan, che abbiamo detto che è in una parte almeno autobiografica, in realtà è ispirata, tra l'altro Sultan viene definito il regista con una pistola infilata nella cintura dei pantaloni, quindi un regista molto sul campo, è ispirata a quello di Said Sultampur, un importante regista iraniano di cui Kader è stato e molto fan. Vorrei che ce ne parlasse di questa figura. Said Sultampur era un sognatore, un sognatore con una cinepresa. All'epoca dello Shah, per dieci anni, è stato detenuto in prigione. Ma dopo la rivoluzione, è stato liberato, ha utilizzato questa come una sorta di frusta, la sua telecamera. E gli ayatollah, invece, non potevano fare lo stesso. E gli ayatollah, invece, non potevano fare lo stesso. E ovviamente un uomo così, un filmmaker, un regista di questa levatura, non potevano tollerarlo. Ecco perché ha subito le conseguenze di questo. And you ask me, maybe you didn't ask me, you want to ask me, why I did, why I write in Dutch, why do I write in Dutch? Forse mi hai chiesto, forse, magari avresti voluto chiedermelo, perché scrivo in olandese? You mentioned only Saeed Sultampur, but there are many comrades of mine are executed. In realtà, hai menzionato Saeed Sultampur, però molti dei miei compagni dell'epoca sono stati giustiziati. Ci sono anche al giorno d'oggi tantissimi scrittori iraniani che non riescono assolutamente ad arrivare alla pubblicazione di un libro. E invece, all'improvviso, Kader Abdullah è sommerso da quest'oceano di libertà. E la vita gli fa omaggio di una nuova lingua, che è la lingua olandese. E a questo punto non potevo permettermi di dire, è difficile, sono troppo avanti negli anni per impararla. Io dovevo farcela, perché loro non potevano dare espressione al loro pensiero. Dovevo farlo per loro. E devo dire che io però non scrivo di argomenti o tematiche particolarmente difficili, non scrivo di politica, non affronto temi complessi, però scrivo, racconto la vita ed è questo che faccio per loro e che è questo che piace anche a tutti noi. Dunque, Sultan usa, abbiamo detto, una telecamera perché è appunto un regista. Prima di questa telecamera però nella sua vita c'è stato un cannocchiale, che era il cannocchiale che usava quando era bambino per guardare dalla sua casa a castello, dove viveva con la famiglia ad Arac, come abbiamo detto prima, per guardare i campi sotto la tenuta di famiglia, per guardare le persone, quello che facevano. Quindi, prima c'è un cannocchiale, poi c'è una camera, quindi c'è sempre una lente. Leggo proprio qualche riga da questo libro e dice proprio, e questo è sul Tan che parla, evidentemente avevo bisogno di quel pezzo di vetro per collegarmi alla realtà. E fu così che per la prima volta vidi mia madre con indosso un paio di singolari scarpe colorate. Qui poi possiamo anche parlare del titolo del romanzo, che è comunque Il sentiero delle babbucce gialle. In realtà, quello che volevo chiedere a Cadere è questo. Se, diciamo, metaforicamente parlando, il suo cannocchiale, la sua telecamera, in realtà è la sua penna. Se è quello il modo che ha deciso di usare attraverso il quale guardare il mondo. Ottima domanda. Perchè mi metti sotto pressione per doverci pensare? I think this is, ok, this is a telescope, or I can say it in... Un occhiale, yes. Un occhiale. But I think it is a symbol of power of imagination. The power of imagination, you know? Innanzitutto il telescopio è un simbolo perché rappresenta il potere immaginifico. In the Islamic world, in the Koran, in the Koran, there are many times, many times, Muhammad of Allah mentioned one sentence. Nel mondo islamico, nel Koran, a più riprese, Muhammad, Allah, menzionano un elemento. What about you think you can get it? Che dire? Pensare che ce la puoi fare. What about everything you think about? Ce la puoi fare a trasporre ogni pensiero. Everything you immaginate about it, you can create it, you can make it. Perché ogni cosa che riesci ad immaginare, puoi crearla. E Dio ha immaginato la terra. The earth. And he said, the moon. Boom, the moon. Dio ha immaginato la luna e, bam, è comparsa la luna. And he said, the sun. Boom. E poi il sole, la stessa cosa. A man. L'uomo. A woman. La donna. Yeah, he looks a woman. And in the Bible, in the Bible, we have Maria dreamed about a son, you know? Nella Bibbia, per esempio, Maria sogna di un figlio. And she got. Il figlio arriva. Beautiful. Jesus. Yes. Bello. Gesù. The camera, I look through to see my readers everywhere. When I was a child, when I was a boy, I look, I, you use this to see the things that you are not able to see. You use this to see them. I use this to see my readers everywhere. I was looking for you. For example, you. And I found you. You look for me and I found you. Thank you. Bene. Dunque, nel... Torniamo al 1985. 1905. E quando Kader ha dovuto fuggire dal suo paese. Che è una cosa che in questi ultimi giorni, diciamo, neanche settimane, giorni, è accaduto. Torniamo a tantissimi, probabilmente i più fortunati intellettuali afghani, appunto in fuga da quello che stava per succedere nel loro paese. Volevo chiedere a Kader se quando ha sentito queste notizie, ogni volta che ascolta queste notizie, perché il caso dell'Afghanistan sicuramente non è l'unico caso di questo tipo, quali pensieri gli tornano in mente, quali ricordi, se ritornano quelle sensazioni che ha provato quando ha dovuto fuggire lui stesso, se la storia si ripete e se c'è un modo di sfuggire da tutto questo. Dirò qualcosa che è difficile da dire, però vi prego di dare ascolto a queste parole. Che i talebani siano pericolosi, lo sapete. Ogni giornale che leggiamo ci fa vedere la loro pericolosità. Io li odio. Però io sono un scrittore e sono un scrittore di esperienza e ho anche visto la rivoluzione nel mio paese. Però è anche successo qualcosa di bello. La fine della guerra. Però purtroppo non ci sarà invece la libertà di parola. Non ci sarà libertà per le donne. E che sia doloroso non serve che ve lo dica io perché lo sapete e lo sentite voi stessi. Però a me stesso dico, Kader, abbi pazienza un paio d'anni. E poi vedremo che cosa vogliono fare di quel paese. E io spero che a quel punto non ci siano più eccidi di massa in quel paese. Le persone uccise sono state migliaia. Gli americani hanno ucciso migliaia di persone. Ma l'Afghanistan non ha semplicemente bisogno di libertà per le donne. o libertà di parola. L'Afghanistan ha finalmente bisogno di un po' di riposo, di un po' di pace. You ask me what do I think, what do I fool, why do I feel, you know? Mi chiedi che cosa sento? The people, they escape, they gone, they can start a new life. Bene, le persone che sono fuggite, loro sì possono iniziare una nuova vita. They have to do their best to make it, you know? Naturalmente facendo tutto quanto in loro potere per farcela, per riuscire. Non sto parlando di loro. Questo è il tuo problema, ma devi dare loro alcune case, alcune cuore, alcune acqua. Però il punto è che a queste persone tu devi dare una casa, devi dargli il pane, devi dargli cose con cui vivere. Però per questo motivo io penso di loro. C'è una pena, un dolore. Io non sono mai stato in grado di tornare a casa, nel mio paese. La mia mamma sta invecchiando, molto anziana. And I have both a telephone for her, you know? Io a mia madre ho comprato un telefonino. Many, many, many years ago, five years ago, I both sent a telephone, the same telephone to her, you know? Cinque anni fa le ho mandato un telefonino come il mio. And we talked through WhatsApp, you know? Così oggi ci parliamo anche tramite WhatsApp. And we talked together, you know? Sei, ci guardiamo, parliamo. And she got every day older, older, you know? E ogni giorno diventa sempre più vecchia, sempre più vecchia. But now, every day, she forgot the things. E ogni giorno, sempre di più dimentica le cose. And now she has forgotten everything. Adesso siamo al punto in cui ha dimenticato tutto. She can't put that number. There is someone who helps her. And we talk. And we talk together. But she doesn't recognize me. And she asks, who are you? Oh, I am your son, mom. Sometimes she thinks I'm, I am, I'm a father. Sometimes she thinks I'm a neighbor man. A volte pensa che sono un vicino di casa. This pain. You ask my question, what is my feeling? You lose everything. You ask me, what is your, what, what do I, what is my feeling? And my, my father died. You ask me, what is your, what, what do I, what is my feeling? Sordo-muto, come dicevo. He didn't know languages. He didn't, he didn't understand the, the distance. He didn't know the Netherlands. Never. I couldn't be with him when he died. But now, many times, in my dreams, I walk to his grave, you know? I think to them they escaped. And I think to them they stay. Penso, sì, a coloro che sono riusciti a fuggire. Il mio pensiero va anche a coloro che sono restati. A questo punto farai l'ultima domanda a Kadar Abdullah, prima di dare la parola al pubblico per fare domande. Se nel suo cuore pensa che un giorno tornerà ad Iraq, qual è la prima cosa, il primo posto in cui vorrebbe andare? E' una domanda dolorosa. Ed è la domanda. E' il mio sogno, il mio sogno. Però c'è un grosso problema. Per tantissimi anni avrei voluto tornare indietro. Ma se tornassi nel mio paese, non ci sarebbe più nessuno di coloro che c'erano all'epoca. La moschea, per esempio, non ci sarebbe più. Le case. Padre, mio padre. La mamma. La mamma. Tutte quelle bellissime donne ad un tempo, tutte quante belle ma anziane. Quindi alla tua domanda non trovo una risposta. E quindi non risponderò a questa domanda. Ma ho chiesto la mia figlia, mia figlia più adolescente. Ho due figlie. La vecchia, non è stare. Ma la vecchia, la vecchia, non è stare. Ma la vecchia, non è stare bene. Non è stare. Io ho due figlie, una è molto più timorosa, non osa, l'altra invece è più estroversa. E a loro ho detto io ritornerò nel mio paese. E ci tornerò, ma se non lo farò sui miei piedi, mettetemi in un feretro e portatemi lì. E la risposta è stata, lo farò. E ho dovuto andare, perché ho paura di venire sepolto invece in Olanda, perché in Olanda la terra è poi fredda e umida. E non è possibile che il figlio del figlio del figlio di Mahometto sia preso in un terreno freddo, umido. e quello olandese non è proprio pensabile. Benissimo, grazie. Kader Abdallah. Grazie per la traduzione. E poi adesso è il momento delle domande. Se qualcuno di voi ha qualche... Prego. Un attimo solamente, grazie. per questo incontro, che mi piace molto. E vorrei sentire che Kader legga in Olanda, in Olanda, una parte del suo libro, se questo sia possibile. Allora, grazie molte per averci dato la possibilità di questo incontro e, se fosse possibile, mi piacerebbe molto che Kader ci leggesse un passaggio dal suo libro in olandese. Non so se abbiamo... Do we have a book in Dutch? No, I can... Posso declamare. No, I can, I can say it, I can say it. No, I can say it. Per aver! No, neanche. Insomma. Vi ferito! In Olanda e, man, in Olanda, e in Olanda, quando è arrivato, quando è arrivato, quando è arrivato, quando è arrivato. E' una parte estremamente poetica del Corano. E' il momento in cui Mosè incontra Dio sul monte Sinai. E Mohamed svirò da Mosè. Svirò da Mosè. E Mosè dice, quindi Dio dice a Mosè. Quindi quando incontrò Dio, questo è quello che disse. Questo lo dice sotto la luna. In un momento in cui la luna rischiarava in modo molto bello il paesaggio intorno. E anche lo disse al sole. Quando il sole chiede di continuare la bellezza in questo mondo. Ecco, di questo trattava. Qualche altra curiosità? Ecco qua. Volevo sapere, cosa sanno di lei nel suo paese natale, in Iran? Possono leggerla e tradotto? Lei scrive per loro. Loro la leggono? Do they read you in Iran? Are you translated into your mother tongue? Grazie per la domanda che è una domanda che mi dà dispiacere, dolore. I miei libri hanno traduzione in 30 lingue. Però non in persiano nel paese. Perché lì sono proibiti. Però c'è un traduttore che ha traduzionato due dei miei libri. Ma sono per persone iraniane in Despora, in abroad. Un scrittore, un traduttore, lo ha fatto, ha tradotto due dei miei libri in persiano. Però sono esclusivamente per un libro di lettori che leggono il persiano ma all'estero. But I want to tell you something. Nobody has read a book of mine in Iran. E vi dico un'altra cosa, che nessuno in Iran ha mai letto mio libro. But everybody knows that I'm a writer, a Dutch writer. Però tutti sanno che sono uno scrittore che scrivo in lingua holandese. And it is because the American and BBC television, you know. And yeah, they have got many interviews with me. Hanno mandato in onda molte interviste dove c'ero io. But they think, yeah, he's an important writer, but he's not of us. E pensano che io sia uno scrittore importante, ma non sono uno di loro. And it is painful. E questo mi dà dolore. But in Iranian, in Iran, the important Iranian writers are not able to publish their books and to write about the revolution and about the ayatollahs. But I have done it. Però io ce l'ho fatta. I have written the forbidden literature. Io ho scritto la letteratura che era proibita. The Iranian people now, they are not able to read it. Gli iraniani adesso, in questo momento, non possono leggerla. But I have cheaped them, my books, for the next generations. But i miei libri ci sono, e sono lì per le generazioni future. Yeah, as a writer, to tell them what's happened to that country. Sono lì come scrittore per riuscire a raccontare loro che cosa sia successo al nostro paese. Il mio telescopio c'è sempre. I see. I am dead, but the Iranian people are reading my books. Osservo, è come se io fossi morto, ma gli iraniani possono leggere i miei libri, potranno leggere i miei libri. Thank you for your question. Grazie per la domanda. Qualcun altro? Sì, io ho una domanda. Come so che il farsi è una lingua molto poetica e molto bella. Mi chiedevo quali autori persiani l'hanno influenzata maggiormente. E se leggendo poesie e letteratura persiana non le viene il desiderio di scrivere anche delle opere in persiano. Quando ho iniziato a scrivere in persiano, quando i miei primi libri erano pubblicati in persiano, io ero circa 37, 35, 36 anni. Il primo libro scritto nell'erlandese è uscito quando io avevo 35, 36 anni. E non è che ne sapessi molto di letteratura olandese. E come è possibile competere con uno scrittore del paese nella sua lingua con i miei scritti. But I discovered, yeah, again, a secret, you know. Però nuovamente mi è venuto in aiuto un segreto, ho scoperto un segreto. I thought, okay, they have read Tolstoi. Mi sono detto, Tolstoi l'hanno letto. I have read Tolstoi, too. Anch'io l'ho letto. Molti libri in inglese li hanno letti. Otello, they have read Otello. I have read Otello. E anch'io. They have read American books. Hanno letto libri americani. I have read American books. Anch'io li ho letti. Maybe they have read the Bible. Maybe they have read the Bible. Forse potrebbero anche aver letto la Bibbia. I have read the Bible, too. E la Bibbia l'ho letta anch'io. But I have a secret. I have the whole Persian, all Persian literature, all Persian poetry, and they don't know about it, you know. Però c'è una cosa che ci rende diversi, nel senso che l'antica letteratura persiana, tutta la letteratura con la sua ricchezza e la sua poesia, io l'ho letta. E questa è una grande differenza. E io sono stato uno studente in una grande università persiana, come potrei menzionare come autori, Sadi, Rumi, e tanti altri. I live with them. E ho vissuto, sono stato lì ai loro tempi. E ho capito i loro segreti per poi trasporli nella letteratura olandese. Sì, sì, ogni giorno leggo letteratura persiana. Però la parte dolorosa è quella che viene dopo. I am, at this time, I am not, I am able to write a persian book of 700 pages. In questo momento, you are able, I am able to write a persian book of 700 pages. But there is a problem. Però sorge un problema. They are empty bottles. I can put my soul in it. Non posso metterci la mia anima. It is dangerous to write in another language. At this time, I can only put my soul in the empty bottles of Dutch literature. In questo momento, la mia anima posso immetterla solamente nelle bottiglie vuote che possono, appunto, ospitare la mia letteratura in lingua olandese. Però ho un segreto, sapete? I write my diary in persiano. And nobody is able to take the mouth. E questo nessuno me lo può togliere. I am a very clever persian. I am the clever son of my father. E in questo senso sono il figlio più bravo, più smart di mio padre. And one day, I will keep all these diaries, now maybe so much. And one day, I'm sure, one day, someone, somehow, will publish them in Persia. E questo mio diario, che oramai è voluminosissimo, sono sicuro che un giorno ci sarà qualcuno che in qualche modo, in qualche luogo, lo pubblicherà. E in questo modo potrò mostrare quale sia il volto e la potenza e anche il dolore dell'immigrazione. And the beauty of it. E la bellezza che ad essa si lega. Grazie. Grazie a tutti. E' stata una splendida cosa. Ultima cosa, mi hanno detto di dirvi che ci sarà anche un firmacopie nello stand qua fuori della libreria. Quindi chi volesse farci autografare il libro, è qua. Esatto, il cadere ha deciso quando finire l'evento. Ora vi hanno detto l'altra cosa che devo dire, quindi io vi saluto, vi do appuntamento al bellissimo film notturno al Cinema Forum. Grazie. 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 Grazie.